Torna a Rimini l'appuntamento con il fitness, quest'anno affiancato dalla filiera alimentare che propone soluzioni salutari ed energetiche per chi vive di sport. Rimini Wellness è una fiera dedicata all'attività fisica, alla competizione e all'allenamento. Si rivolge agli operatori professionali del settore, all'industria che fornisce attrezzature e soluzioni per chi pratica ed insegna fitness. L'evento è aperto anche al pubblico privato e unisce divertimento e professionalità. Cinque giorni dedicati che occupano l'intero quartiere fieristico di Rimini in ogni spazio al chiuso all'aperto. Dal 2 al 5 giugno l'intero polo diventa centro di movimento di sfide competitive e di iniziative sportive e di spettacolo. 16 padiglioni occupati in tutta la loro superficie e circa 400 brand in esposizione e rappresentati durante la fiera. Questi alcuni dati della manifestazione. Nel giorno di apertura l'evento ha subito dimostrato la sua capacità mediatica con un tam tam di tweet che hanno portato in pochi minuti l'hashtag di riferimento tra le tendenze del momento. A livello di sviluppo professionale Rimini Wellness oggi diventa una vetrina importante anche per le aziende che propongono soluzioni alimentari salutari in linea con le nuove esigenze dei consumatori che si orientano a scelte più naturali, vegetariane e biologiche. Torna infatti l'appuntamento con Foodwell Expo proprio per sottolineare la sinergia tra allenamento fisico e alimentazione sana. I protagonisti di questo spazio dedicato all'alimentazione sono nutrizionisti, chef, personal trainer ma anche marchi di rilievo come Sacla, Sant'Albi per pasta. Si parla di soluzioni non solo per chi fa sport ma anche per chi vive la quotidianità a ritmo frenetico. Si evidenziano confezioni pratiche e cibi naturali che contribuiscono al raggiungimento di un livello di salute più sano. A un evento così atteso non mancano nomi noti come Marco Melandri, vice campione del mondo di superbike e moto GP che ha partecipato all'inaugurazione. Durante i giorni della manifestazione si può assistere ad allenamenti di gruppo, a dimostrazioni delle diverse discipline in un contesto coinvolgente che punta al benessere, all'innovazione e alla condivisione.